il problema, intanto si stanno aspettando le macchine per completare il chiarimento che vi ricordo ha in prima fila Reutemann, visibile in basso sulla destra, al suo fianco Nelson Piquet, quindi seconda fila Pironi e Patresi, in terza fila Watson e Jones, in quarta fila Villeneuve e Cheever, c'è evidentemente qualche problema, ha chiamato Frank Williams, Williams lo tranquillizza, evidentemente c'è qualche cosa negli strumentazioni di bordo che lo preoccupa, continua a tenere il braccio al canto per segalare che ha dei problemi, intanto io continuo chiaramente in partenza, dopo Villeneuve e Cheeveri, in quarta fila abbiamo in quinta l'affitto di Nigel Mansell, in sesta Rosberg e Prost, in settima storia di Angeli, in ottava Surer e Jabui, in nona Giacomelli e Andretti, in decima Alboreto e Cicco Serra, in undicesima Rebacche e Cappiani, in dodicesima De Cesaris e Ginzani, ecco che sta arrivando anche Piquet che sta facendo un giro piuttosto strano per trovare lo schieramento, mentre intanto vedete che Patrese fa grandi segni con i bracci, evidentemente ha anche lui qualche problema, sta disperatamente chiamando l'attenzione dei suoi meccanici e nessuno se ne accorge, mentre intanto sta arrivando per schierarsi Gilles Villeneuve, mentre vedete che Patrese continua disperatamente a fare i segni, sembra impossibile che nessuno lo veda, lo vediamo tutti noi, anche la telecamera adesso a stretto sul pilota ed ecco che finalmente uno si avvicina a Patrese che viene tamponato da Storm, ma è impossibile e Storm ha perciuta gravissimo incidente, adesso è in partenza, Storm ha ferito il meccanico della squadra Aerov che era andato per sentire che problema aveva, ecco rivediamo a Valenti, veramente sfortunato questo circuito di Zolder, ecco in replay l'incidente, Storm non si ha veduto che Patrese era fermo e adesso è andato a sbattere violentemente contro la macchina del Padovano, ferendo gravemente credo, comunque seriamente il meccanico della Aerov che era andato per sentire quali problemi aveva la macchina di Patrese, aspettiamo adesso di avere comunicazioni dai box, mentre intanto mi dice Benzin che fermano la corsa, ovviamente bandiera gialla per adesso, ecco, bandiera gialla, corsa rallentata, mi segnalano mentre si provvede a sgamberare la pista, vediamo che cosa succede, le macchine stanno rallentando in questo momento e il direttore di corsa deciderà che cosa fare, mentre vedete le bandiere gialle dei commissari e aspettiamo di vedere che cosa succede, c'è stata incertezza, forse era meglio sospendere la corsa e riprenderla con maggiore calma, intanto Nelson Piquet ha preso il comando della gara secondo le prime immagini che ci erano giunte, seguito dal numero 28 Carlos Reutemann, no, dal numero 28 Pironi, dal numero 2 Reutemann dall'1, ecco intanto che stanno sgomberando la macchina di Stor, che aveva stamponato e finito gravemente un meccanico tra l'ero, stamponando la macchina di Patrese che stava facendo disperati segni per far capire che aveva la macchina in panne, probabilmente gli si era fermato il motore e non riusciva più a rinviare, intanto vedete l'ambulanza che cammina lungo il circuito mentre i commissari continuano a far segno di attenzione con le bandiere gialle e che sta portando probabilmente il meccanico nella zona dove l'elicottero provvederà al suo ricovero all'ospedale, intanto vedete che un'altra macchina davanti ai box di assistenza si prepara a sgomberare la vettura di Stor, non abbiamo ovviamente visto passare Patrese che avrà avuto la macchina danneggiata nel tamponamento, questo è stato messo fuori anche in questo caso, intanto vedete che i concorrenti nella zona che mette nel tratto sud del circuito stanno cercando di rientrare nel clima di corsa dopo l'incidente di partenza. Aspettiamo sempre notizie dai box, mentre vi dice Benzi che il secondo passaggio non ha visto il numero 28, Pironicola Ferrari che era passato in seconda posizione e sta arrivando lentamente adesso, mentre vedete che Civer si fermano, i concorrenti si stanno fermando, in questo momento si stanno fermando e adesso vedremo quali decisioni, mentre applaudono i meccanici, vedete i meccanici applaudono per questa decisione dei piloti, mentre Nelso Pichet continua...